Da oggi scatta l'obbligo del Green Pass per eventi, piscine, cinema e teatri. Il certificato verde serve anche al bar e al ristorante, ma all'interno. I controlli affidati ai gestori si rischiano molte salate e la chiusura dei locali. Nel caso ci fosse la pioggia o il maltempo, come spesso accade con il vento improvviso, allora chi non è munito di Green Pass, che ha la prenotazione fuori, sarà disdetta la prenotazione perché non potrà accedere. Covid nelle Marche e i parametri sono tutti in aumento. Contagi, ricoveri e un decesso nel maceratese. Nell'area Vasta 1 è arrivata una fornitura straordinaria di 2.000 dosi di vaccino. Scontro tra auto e scooter a Fosso Signore grave il Centauro trasportato in codice rosso all'ospedale San Salvatore. Emette fatture false anche prima di ottenere la partita IVA scatta sequestro preventivo per 70.000 euro nei confronti di un sessantenne rappresentante legale di un'azienda fanese. Auto e moto che sfrecciano nel sottopasso ciclo pedonale di Via Fanella a Fano, la lamentela di un residente che lancia un appello al comune, pedoni e ciclisti rischiano la vita. Pesaro continua la corsa per l'Eurovision 2022 tra le 11 città che hanno superato la prima selezione. Buonasera e bentornati sul canale 17 di Fano TV per questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. È arrivato il giorno del Green Pass obbligatorio per accedere a tanti luoghi della socialità. Oggi abbiamo fatto un giro sul lungomare di Fano per sentire gli umori della gente e degli imprenditori. Siamo muniti di Green Pass nella maggior parte delle persone. Ritenete appunto che sia giusto questo obbligo di esibirlo in determinati locali? Abbastanza. Però sì, visto adesso ormai bisogna adeguarsi, vista la situazione, visto il momento e quindi la maggior parte di noi è coerente a questa cosa. Al via la fase 1 della certificazione verde. Da oggi 6 agosto il Green Pass è richiesto per accedere a piscine, palestre, cinema, musei, stadi e teatri. L'obbligo vale anche per partecipare ad eventi fiere e congressi. Dal primo settembre poi giro di vite per il professore e gli studenti universitari che dovranno esserne dotati. Il personale della scuola che non avrà il Green Pass potrà essere sospeso e restare senza stipendio. Il lascia passare richiesto per chi ha più di 12 anni viene rilasciato dopo 15 giorni dalla prima dose del vaccino, a chi è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi oppure con l'esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. Lo si scarica con le app Io e Immuni, ma anche dal medico di base e in farmacia. Vi hanno già richiesto il Green Pass oggi qualcuno? No, assolutamente no, ma l'abbiamo comunque. Quindi avete deciso di fare il vaccino? È da tempo. Cioè del Green Pass obbligatorio, è d'accordo lei? Io penso di sì perché è una questione di salute generale, poi non è una cosa dittatura italiana, è una cosa mondiale. Vi è stato chiesto oggi il Green Pass? No. Niente. Ce l'avete oppure avete deciso di non fare il vaccino? No, no, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo tutti. Che cosa ne pensate di questo obbligo per entrare e accedere in diversi locali? È giusto? Sì, è giusto. Lo dovevano fare prima? Dovano farlo prima, sì. Visto i numerosi casi che ci sono, quindi è giusto. Il passaporto verde dovrà essere esibito anche per entrare nei bar e nei ristoranti al chiuso, ad eccezione delle consumazioni al banco. Al momento però, grazie alla bella stagione, gli imprenditori utilizzano gli spazi all'aperto. Il problema, infatti, si presenterà in caso di maltempo. Per il cittadino che non rispetta le regole e per il gestore del locale che non effettua i controlli, è prevista una multa da 400 a 1000 euro. In più, per gli esercenti, se le trasgressioni si ripetono in tre giorni diversi, c'è il rischio di chiusura da 1 a 10 giorni. Primo giorno di Green Pass, com'è andata? I clienti hanno fatto domande? Abbiamo domandato noi veramente se avessero o meno il Green Pass e non tutti sono muniti di questo Green Pass. E comunque noi siamo fortunati perché abbiamo la struttura all'aperto, il ristorante è all'aperto e questa struttura qui è leggera, quindi non abbiamo grossi problemi. Avete ricevuto delle domande particolari? Sì, domande tipo chi mangia fuori che non ha il Green Pass, se per andare in bagno, perché bisogna attraversare la sala, può farlo, lo potrà fare con la mascherina indossata. Nel caso ci fosse la pioggia o il maltempo, come spesso accade con il vento improvviso, allora chi non è munito di Green Pass, che ha la prenotazione fuori, sarà disdetta la prenotazione perché non potrà accedere. Il vostro locale è all'aperto questo bar, se fosse stato chiuso, le avrebbe creato dei problemi? Sicuramente sì, perché avrei dimezzato l'accidentale, avrei avuto meno persone che potevano entrare, sicuramente. Ma non è d'accordo sul fatto che sia stato imposto? Sì, su questo Green Pass sicuramente, non lo so, è tutto studiato in modo molto veloce. Siete muniti di Green Pass? Sì. Vi è già stato richiesto oggi in qualche locale? No, sono solo venuta qui, quindi no. Anche voi l'avete? Sì, sì. Eccolo qua il suo, quindi ha fatto entrambe le dosi o una sola? Entrambe. Ha deciso di sottoporsi alla vaccinazione per quale motivo? Per uscire da questa pandemia. E a favore anche di questa carta verde? Se è un incentivo, chiaramente, a convincerle persone a vaccinarsi, per forza sì. Anche la signora qua, vedevo che ce l'aveva pronto il Green Pass. Eccolo qua. E sul Green Pass che cosa ne pensa? È giusto, insomma, obbligare le persone ad averlo? Obbligare adesso, però è giusto, sì. Non mi è mai capitato che richiedessero il Green Pass, però ritengo che sia una cosa utile. Quindi giusta, è a favore? Sì, sono a favore perché è giusto che ci sia anche questa libertà di scelta, chi vuole fare il vaccino, chi non lo vuole fare. Ma è anche vero che, diciamo, l'unico strumento che abbiamo oggi per contenere la pandemia o quello che può essere le difficoltà del caso. Ci vuole, secondo me sì. Non ci sarebbe stata alternativa anche la libertà? Per lo meno ci proviamo, no? Poi di nessuno non se ne viene fuori. Proviamo quello che possiamo fare. Penso che per i giovani il fatto di non andare al ristorante, secondo me, all'interno non è giusto. Per esempio, noi domani abbiamo una festa di compleanno e noi siamo costretti a stare fuori con mio figlio perché lui non si è vaccinato. Quindi vaccini obbligatori sì, però al di sotto di una fascia di età. Esatto, secondo me i giovani sono molto limitati in queste cose. Cioè anche d'inverno, per esempio, cioè d'inverno o d'estate non è che si va fuori. Quindi i giovani dove si riuniscono? Nei ristoranti è chiuso, ma se non sono vaccinati. E ad alcuni associati di ConfCommercio è giunta voce che attraverso i social qualcuno si sta organizzando per reperire i nominativi dei ristoranti che chiederanno il green pass ai clienti. E questo per poi lasciare le recensioni negative nei loro confronti. Pertanto ConfCommercio invita chiunque abbia notizie in merito a darne comunicazione all'associazione di categoria che mediante il proprio legale presenterà un esposto alla Procura della Repubblica affinché venga verificata ogni possibile ipotesi di reato. Infatti, come avete sentito nel servizio, il green pass è obbligatorio per coloro che consumano all'interno dei locali, e quindi, si legge nella nota, non accettiamo che vengano denigrati e invitati al fallimento i ristoratori su una catena social senza volto. Sono ancora in aumento i contagi da Covid nelle Marche. Intanto, grazie a una fornitura straordinaria di 2.000 dosi, la campagna vaccinale dell'Asur, Aria Vasta 1, sta tornando alla normalità. Per i sanitari Novax, invece, sono partite le lettere. Ora rischiano anche la sospensione. Salgono a 217 nuovi positivi al coronavirus rilevati in un giorno nella nostra regione. La provincia più colpita è quella di Pesero-Urbino, con 89 contagi, seguita da Macerata con 42. In aumento anche il tasso di incidenza, che supera il 73% su 100.000 abitanti. Inoltre, nelle ultime 24 ore è stato registrato un decesso legato al Covid. Si tratta di un novantenne di Tolentino. Invece, negli ospedali c'è un paziente in più, sia in terapia intensiva, sia in quella semi-intensiva. Numeri però che al momento, come ha ribadito ieri il governatore Francesco Acquaroli, fanno restare le marche in zona bianca. Noi stiamo assistendo a un repentino incremento del numero dei casi. Sono dei focolai che, generati da rientro delle vacanze, è una cosa che ci aspettavamo. Siamo pronti per fronteggiare questa situazione epidemiologica da noi attesa, potenziando l'attività di contact tracing in maniera capillare. Il tracciamento, infatti, come ha precisato il dottor Liverani, è essenziale per evitare che la situazione possa precipitare nelle prossime settimane. Per quanto riguarda invece i punti di vaccinazione, diversi appuntamenti erano stati spostati. Ad oggi invece è più o meno tornato tutta la normalità? Guardi, noi abbiamo avuto una criticità la scorsa settimana, perché avevamo un delta di diverse migliaia di dosi, tra le dosi necessarie e quelle disponibili. Poi, fortunatamente, grazie al Servizio Sanità della Regione e la Direzione Asur, c'è stata una fornitura straordinaria di circa 2.000 dosi. Questo ha permesso in parte di evitare molti differimenti, quindi siamo ripartiti in maniera abbastanza regolare e diciamo che adesso la campagna procede in maniera abbastanza normale. Quante sono le dosi che vengono somministrate quotidianamente? In questo momento le dosi somministrate quotidianamente sono un po' ridotte rispetto alle settimane precedenti, in cui arrivevamo a circa 1.100 dosi al giorno, ad esempio sul PVP di Pesaro. Al momento, quando siamo aperti l'intera giornata, ci attestiamo sulle 600-700 dosi. Il dirigente medico poi è intervenuto sulle lettere spedite dall'Asura a un centinaio di sanitari Novax. In totale, però, nell'area Vassa 1 sono circa 700 gli operatori che non si sono ancora sottoposti alla profilassi. Tra loro c'è chi si è prenotato ed è in attesa della somministrazione, ma anche chi, per vari motivi, non può riceverla. Il nostro compito si esaurisce a questo livello. Ora spetterà ai datori di lavoro mettere in atto le azioni conseguenti. Noi sappiamo che dal decreto le azioni possono andare dall'assegnazione del lavoratore in adempiente a mansioni anche inferiori, purché non sia presente il rischio di diffusione del contagio, oppure, quando questo non è possibile, anche alla sospensione. Enesimo incidente in via Pergolesi a Lido di Fan, un residente esasperato ha postato un video sul nostro gruppo Facebook reporter di strada per chiedere al sindaco di intervenire. La polizia locale poco fa ci ha fatto sapere che entrambi i conducenti ne sono usciti in lesi e hanno proceduto con la constatazione amichevole. Allora sentite lo sfogo del cittadino. Allora siamo in via Pergolesi, qui succede questo, una volta a settimana, una volta a settimana succede un c***o di cosa così. È possibile? Ho suonato pure, ho suonato perché l'ho visto che non si era fermato. L'ho suonato. È possibile sindaco? Hanno sentito suonare. Guarda, guarda da qua, guarda. Io l'ho scanzato pure, sennò io morirò nella ruota. Ma io abito qui? Ma lo so, lo so. Ma ogni settimana è così. Allora... Non è la prima volta. No, no, no. Ma invece di mettere le strisce blu, di fare le cose a pagamenti, hai capito sindaco? Hai capito sindaco Seri? Facciamo qualcosa di diverso. Quindi rallenta tutto. Scontro tra auto e scooter oggi all'uscita del sottopasso di Fosso Segliore tra Fano e Pesaro. Un 39enne, residente a Cremona, era a bordo di una scoda e stava uscendo dal sottopasso per svoltare a sinistra. Ma in base ai rilevi della polizia locale di Fano non avrebbe dato la precedenza al 37enne di origini marocchine alla guida dello scooter. Il centauro che stava percorrendo la statale adriatica nell'impatto si è ferito in modo grave ed è stato trasportato in codice rosso al San Salvatore di Pesaro. Ne sono usciti l'esi, il conducente e i passeggeri a bordo dell'auto. Un operaio è rimasto gravemente ferito agli esi durante i lavori di ristrutturazione di un supermercato, il SIC-Conté di Via Fausto Coppi. L'incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 10 in uno dei locali dove è stato allestito il cantiere. L'uomo, un 33enne di Castelfidardo, sarebbe caduto su alcuni vetri ferendosi ad un braccio. Sul posto gli ispettori del lavoro e i sanitari del 118 e della Croce Verde. L'operaio è stato trasportato in ambulanza nell'elipista di Via Galodoro e da lì caricato su Icaro, in codice rosso per la volta dell'ospedale regionale di Torrette. Ancora cronaca, aveva immesso fatture false anche prima di avere la partita IVA. Finire nei guai è stato un sessantenne al quale le fiamme gialle hanno sequestrato 70 mila euro tra beni e denaro. Il servizio di Filippo Pucci. La Guardia di Finanza di Fano ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo per equivalente per un importo di circa 70 mila euro del denaro presente nei conti correnti bancari e di altri beni nella disponibilità di un sessantenne che ha messo fatture false negli anni del 2015-2016. L'uomo, che è il rappresentante legale di una ditta che opera nel settore delle costruzioni meccaniche, con sede a Fano, ha consentito ad altre due società delle Marche di ottenere un risparmio di imposta e di detrarre l'IVA in quattro fatture in modo illegittimo per oltre 170 mila euro. In particolare, la minuziosa attività ispettiva svolta dalle fiamme gialle ha consentito di scoprire che le fatture erano state emesse prima che la società ottenesse l'assegnazione della partita IVA. Inoltre, le aziende che si dovevano occupare della rigenerazione del macchinario, oggetto dei documenti fiscali, non avevano né gli stabilimenti in grado di ospitare il bene né i dipendenti in grado di operarci. Infine, è emerso che il prezzo ottenuto dal titolare della società pesarese per il servizio reso è stato di 70 mila euro, pari alla differenza tra il denaro accreditato sul conto corrente e i bonifici eseguiti come ritorno. Così, il giudice per le indagini preliminari di Pesaro, che ha accolto la tesi della Procura, ha emesso il decreto di sequestro preventivo per denaro e beni fino all'importo del profitto del reato realizzato con la condotta illecita. Due punti per sensibilizzare i giovani sugli effetti dell'abuso di alcol. È l'obiettivo di incrocio unità di strada promosso dal Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'Asur Area Vassa 1 e organizzato dal Centro Italiano di Solidarità in collaborazione con il Comune di Pesaro. L'Infopoint sarà attivo tutti i venerdì e sabato di agosto, dalle 21 alle 24, nello stand allestito in Viale Trieste, vicino alla pista di pattinaggio, e lungo la linea 2 della Bicipolitana, nel tratto Sottomonte. Verranno proposte la misurazione gratuita del tasso alcolemico, prove di simulazione di guida in stato di ebrezza e anche confronti con gli educatori specializzati. E adesso diamo spazio alle vostre segnalazioni che oggi ci portano in Via Fanella-Fano, dove il sottopasso accessibile solo a pedoni, ciclisti e scooter è diventato pericoloso a causa del passaggio illecito di auto e moto. Era stato realizzato in occasione degli interquartieri previsto per l'ampliamento della terza corsia della 14 e dopo un periodo di sperimentazione, il Comune di Fano aveva deciso di dedicare il sottopasso di Via Fanella soltanto al passaggio di ciclisti, pedoni e scooter. Così però non è perché, a detta di alcuni residenti, New Jersey posizionati al centro della carreggiata per evitare il passaggio di auto, moto e apecar non servono un granché. Succede che purtroppo la gente corre, corre tanto, corre in moto, corre in motorino, passano macchine, nonostante il tratto sia interrotto da anni. La gente qui l'ha preso come un passaggio sicuro per passare col cane, per passare in bicicletta, per attraversare da Centinarola a passare a Fano 2. È solamente che non è più così, perché purtroppo già l'illuminazione è scarsa e tutto il resto la gente non tiene conto dell'esigenza di chi va in bicicletta o a piedi. Avete già visto diversi episodi? Sì, abbiamo già visto diversi episodi. Una volta, due volte hanno quasi investito la mia fidanzata, una volta un motorino a momenti prendeva sotto un signore in bicicletta. Il problema è che anche avvertendo chi di dovere non interviene. Più volte avete segnalato la questione a chi? I vigili urbani sulle 6-7 volte. Invece quando è successo il fatto del signore anziano abbiamo chiamato direttamente alla polizia. Abbiamo visto la volante passare ma non si è fermata né niente. Perché non ci sono telecamere, quindi comunque risulta un po' complicato individuare i furbetti. Esatto, il problema è proprio quello. Anche la segnaletica e gli stessi New Jersey, spesso vuoti, prosegue Eric, sono stati spostati più volte dai cittadini pur di passare con mezzi ai quali non è consentito l'accesso. Basterebbe posizionare dei dissuasori fissi, paletti o panettoni in cemento o meglio ancora installare le telecamere di videosorveglianza per stanare e montare i furbetti. Che cosa chiedete al Comune? Chiediamo che si sappia che cosa si vuole fare di questo tratto stradale interrotto e che soprattutto se si vuole tenere come passaggio pedonale o ciclo pedonale che venga messa una segnaletica per i pedoni e per chi va in bicicletta e soprattutto un qualcosa di fisso che non permetta a chi vuole passare col motorino o con la macchina di passare in un tratto che non gli è dovuto passare. Sono 12 punti campionati dai volontari di Goletta Verde lungo le coste marchigiane e in totale 6 prelievi eseguiti alle foci dei fiumi sono risultati oltre il limite di legge 5 fortemente inquinanti e 1 inquinato. Quest'ultimo riguarda la foce del torrente Arzillafano mentre rispetta i parametri il campione prelevato dalla foce del fiume Foglia a Pesaro. E a causa dell'emergenza idrica questa mattina nel corso della riunione del Comitato Provinciale di Protezione Civile è stata decisa l'apertura del Pozzo Burano nel Comune di Cagli. Tra gli obiettivi c'è anche quello del recupero delle volumetrie degli invasi del Furlo, San Lazzaro e Tavernelle con la rimozione dei detriti accumulati a ridosso degli sbarramenti. Prima gli interventi allo stadio Mancini e poi l'esclusione dell'Alma Juventus Fano da ripescaggio per la Serie C. Dopo l'amarezza in città oggi insorge il Movimento 5 Stelle che chiede in che modo siano stati spesi i soldi dei cittadini. Se l'errore è del Comune, ha detto uno dei consiglieri, l'assessore Fanesi si deve dimettere. La società Granate è stata esclusa. Quali sono quando non le vostre considerazioni ma anche le richieste che avanzate? Sì, purtroppo l'Alma è stata esclusa da ripescaggio in Serie C per tre motivazioni. Una riguarda la fede di usione e questa se la vedrà la società. Le altre due invece sono inerenti allo stadio Mancini dove viene contestata la mancata documentazione dell'illuminazione nuova che è stata fatta e la mancata posa in opera dei seggiolini che in effetti non ci sono stati. Allora, come Movimento 5 Stelle noi ci preme sottolineare che ci auguriamo che il ricorso che ha fatto il Fano insieme al Comune venga accolto cioè dimostra che è stato fatto tutto per bene e che le documentazioni sono giuste e i lavori fatti allo stadio sono stati fatti bene. Perché in caso contrario bisogna ricordarsi che sono stati spesi più di 600 mila euro fino a questo momento in un totale ne verranno spesi 4 di milioni senza una visione lungimirante come avevamo suggerito noi in campagna elettorale di fare uno stadio in legno nuovo modulare a Chiaruccia dove dovrebbero fare la clinica privata anche se quella è una zona sportiva. No, preferito ristrutturare il Mancini. Ci auguriamo che sia stato fatto tutto per bene, che il ricorso venga accolto bene perché se il ricorso non viene accolto per colpe del Comune malgrado tutti i soldi spesi, malgrado l'enfasi con la quale l'assessore Fanesi aveva detto che era stato fatto tutta regola d'arte se è colpa del Comune per noi l'assessore Fanesi si deve rimettere. Cambiamo argomento. Pesaro continua la corsa per l'Eurovision 2022 infatti è tra le 11 città candidate ad ospitare l'evento musicale più importante d'Europa. Dare l'annuncio sono stati ricevimini. ricevimini non sarà un percorso semplice, hanno commentato sindaco e vice ma abbiamo superato la prima fase e crediamo di avere tutte le carte in regola per avverare questo sogno. Giovanotti invece ha fatto tappa a Fano. Siamo felici che abbia apprezzato la nostra città, ha commentato l'assessore al turismo Etienne Lucarelli. Il noto cantautore italiano ha pubblicato due storie sul suo profilo Instagram. Nella prima ha immortalato l'arrivo a Fano in bicicletta mentre nella seconda si è scattato un selfie in riva al mare mostrando apprezzamento. La prossima volta ha concluso l'assessore. Lo inviteremo a gustare un piatto a base di pesce fresco dell'Adriatico e ad assaporare la nostra moretta. Rimaniamo a Fano dove all'Anfiteatro di Sassonia proseguono gli eventi della rassegna intitolata Elucemo alle stelle. Sta riscuotendo un grande successo la rassegna artistica organizzata dal comune e dalla proloquo a Sassonia di Fano. Fino al 18 agosto all'Anfiteatro Rastat proseguono gli eventi di Elucemo alle stelle. Dopo uno spettacolo di musica, poesia e canto in programma per questa sera e la notte in moda di domenica dalle 21.30 si proseguirà lunedì alle ore 21 con la compagnia dialettale del GAF. Dopo il debutto all'Arena BCC passate a Rastat. Questa nuova commedia che abbiamo scritto appositamente per questi periodi di pandemia dove ci prendiamo un po' in giro quelle che sono i nostri comportamenti in questi periodi di difficoltà e le prime sono andate bene, le prime diciamo di debutto. Quindi speriamo che chi ci verrà a vedere a Rastat possa godere ugualmente di divertimento e di due ore di spensieratezza e tranquillità. Ricordiamo anche il titolo della commedia. La figura Glove Toast. Lunedì 9 agosto all'Anfiteatro Rastat. Martedì invece sarà la volta del San Costanzo Show. È con noi, è con noi, sorpresa, sorpresissima sorpresa. Vai, 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 vai. Eh? Anfiteatro Rastat. Martedì 10 agosto ore 21.15 Sapore di sale grosso, ripeti Davide. Sapore di sale grosso all'Anfiteatro Rastat. Il nuovo spettacolo comico del San Costanzo Show. Dai, 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 dai. Ripeti, ripeti. Vabbè, non importa. Vi aspettiamo. Sapore di sale grosso. E dalla comicità si passerà ad un concerto, mercoledì 11 alle ore 21.15. Porteremo il nuovo progetto dell'orchestra Rossini di quest'anno, intitolato Freedom. La voce solista sarà la splendida voce di Clarissa Vicky. Avremo un organico orchestrale di oltre 20 elementi con gli arrangiamenti di Pasquale Corrado. La serata sarà dedicata a due icone del pop e del funky. Il giorno successivo, poi senza tempo, Live Music Club presenterà Davide Shorty e Straniero Band. Tutte le informazioni su date, orari e biglietti degli eventi sono disponibili sul sito visitfano.info Ieri sera nel centro storico di San Costanzo si è svolta la tredicesima edizione di Auto d'Epoca sotto le stelle. Il primo memorial Paolo Vicini, organizzato dal club Lucio Ricci di Fano, in collaborazione con il Comune, la Proloco di San Costanzo e l'acci storico di Pesero Urbino. Le auto parcheggiate sia sotto la torre che per il corso erano 75, mentre i partecipanti oltre 160. Gli equipaggi sono arrivati da ogni parte della regione, ma anche da fuori, come da Sisi e da Milano. La serata, che è stata allietata dalla musica degli stornellatori di San Costanzo, ha previsto anche una cena preparata dalla Proloco, piatto forte e la famosa polenta. Momento toccante invece quando il presidente Oscardo Severi ha ricordato la figura di Paolo Vicini, storico presidente del Motor Club per quasi 20 anni scomparso due mesi fa. E questo è successo, il ricordo alla presenza della moglie Antonina e della figlia Lucia. E con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. Vi ricordo il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni, per noi sempre molto importanti, 338 4968 250. L'informazione torna domani mattina con la rassegna stampa. Arrivederci. L'informazione torna domani mattina con la rassegna stampa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.